San Pietro Apostolo Presidente Vitaliano Marino, una battuta? Niente, noi prologo siamo a favore, a salvaguardia del dialetto e questo è un premio particolare per la sezione scolastica che è una manifestazione che si svolge nel mese di maggio a Roma mentre la manifestazione, diciamo quella originaria, si organizza il 17 gennaio sempre a Roma, salva la tua lingua Sì perché noi abbiamo cercato di coinvolgere le scuole, quindi come prologo ci siamo occupati di questo tra l'altro abbiamo avuto anche un alunno della scuola primaria di San Pietro Apostolo che ha avuto una menzione per quanto riguarda una poesia e quindi anche l'alunno ha avuto il piacere di partecipare a Roma a questa manifestazione e noi oggi stiamo ricevendo questa menzione e ne sono orgogliosi e contenti Grazie a tutti!